Antonella Serrenti, una giornata dall'aria antica, foto di guerra Antioco soleva fare una passeggiata per il paese prima di colazione. Gli piaceva guardare l'arrivederci che la luna e il sole si scambiavano ogni giorno, vedere la magia del cielo e della terra rivestirsi di fresco e lasciare che questa si prendesse cura di lui, ricaricandolo di quell'energia che i suoi 87 anni faticavano a recuperare. A quell'ora poi non c'era quasi nessuno in giro, a parte gli spazzini che ritiravano i sacchetti pieni di quello che era rimasto di un nuovo ieri già svanito. I negozi erano ancora chiusi, le campane delle chiese e gli abitanti del luogo dormivano placidamente. Quella mattina camminò in mezzo alle vie deserte, ignorando le case di nuova costruzione sprangate da astruse porte blindate e freggiate con pomelli dorati. Ripensò al paese di 60 anni addietro, quando a nessuno sarebbe venuto in mente di chiudere usci o finestre, e soltanto cavalli, pecori o qualche bicicletta ne calcavano le strade battute. Realizzò che poche erano le cose che avevano sfidato il tempo o la magia dell'orizzonte, laddove il mare cristallino incontrava l'azzurro del cielo carezzando l'evidente bellezza di un luogo impreziosito dal sole. In quella posizione il paese appariva agli occhi di chi lo vedeva per la prima volta come appena emerso dal mare, e in ciò era fedele ai ricordi. Ma tutto il resto, sì, era cambiato. Certo, alla sua età si viveva di vecchie immagini velate e seppiate dal tempo, ma il loro turbinare tra le mura della sua mente alcune volte lo infastidiva. Ruminando pensieri e parole, arrivò al bar del porto, che a quell'ora era già aperto, dove il solito gruppo di giovani pescatori e bagarini faceva colazione. Si sedette vicino a loro e venne subito coinvolto nelle chiacchie generali, sebbene con la deferenza che solitamente i ragazzi riservano alle persone anziane. Si parlava di pesca, dei prezzi del pesce sul mercato, ma all'argomento che più eccitava gli animi e imporporava i visi era il plauso dovuto, nel bene e nel male, alla dorata squadra del Cagliari. Erano freschi e sani, con braccia robuste come tronchi d'albero messe in risalto dalle t-shirt, prima si chiamavano magliette, aderenti. Erano audaci e sfacciati, e un po' gliela invidiò quella loro spavalda giovinezza. Si vide scalzo, con i pantaloni arrotolati sui polpacci, tirare le reti in barca e cantare «Se potessi avere mille lire al mese!» Il suo viso era giovane e fresco come il loro, senza quelle rughe che oggi raccontavano di dolore e di storia. Chissà, pensava di nuovo lucido, se spalancare porte e inventariare pezzi del passato è un bene o un male. Quel giorno compieva 87 anni, e di certo gli rincresceva a perdere il futuro. Voleva altro tempo, ma come ogni essere vivente, anche lui aveva il suo. Soffiò sul caffè che il cameriere gli aveva messo davanti, creando piccole increspature sulla superficie di quel liquido caldo. Era nero e forte, proprio come piaceva a lui, e lo gustò lentamente ripensando al suo medico che, con analisi alla mano, gli propinava l'immagine della senilità, immagine lontana dal meraviglioso crogiolarsi al sole di quel lungomare da cartolina. Antioco sospirò. Prese dalla tasca il portafogli e, mentre contava i soldi per pagare la consumazione, un quadratino di carta gli cadde per terra. Lo raccolse e si rese conto che stava per smarrire una vera e propria reliquia. Il suo adorato francobollo, appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» e dedicato alla sua brigata Sassari, regalo di qualche anno prima. «Che diavolo? Doveva stare da tutt'altra parte questo!» L'illustrazione presente nel francobollo raffigurava su uno sfondo colorato a sinistra lo stemma della brigata Sassari, con il motto «Savida prosa patria, la vita per la patria», e a destra, in alto, le quattro medaglie d'oro. «Mai eguagliate da nessun'altra unità», soleva ricordare lui. Al centro dell'illustrazione, invece, spiccavano le sagome dei diavoli rossi, nome dato dagli austriaci ai soldati di quella brigata per via del colore rosso delle loro mostrine durante l'azione di attacco nella battaglia dei Tremonti. Tanta vita è passata da allora. Fu come se il tempo girasse attorno a quel quadratino di carta colorata e l'uccellino della radio Telefunked annunciasse l'ennesimo bollettino di guerra. Non fu più oggi, non fu più presente. È un crescendo di tormenti del corpo e dell'anima, di rancore nei confronti di una guerra strusa, ladra di giovinezze, di domande senza risposta. contro chi e per chi combattevamo, il tempo che non passa mai e i nervi che si logorano. In trincea le giornate hanno tutte lo stesso colore della mota, demarcate da pareti spesse come stanze che assumono le sembianze dell'attesa, dove anche il più piccolo fruscio ci inquieta. Le nostre orecchie ormai captano anche il più debole segnale sonoro. Sono diversi giorni che, insaccati nei pastrani, se viziati dal freddo, martoriati dai pidocchi, dalle pulci, dalle cimici, che neanche a lasciarli bollire con i nostri vestiti nei grandi mastelli pieni d'acqua, si decidono a morire. Aspettiamo ordini che non arrivano. Il nemico è vicino. Lo sentiamo dai colpi secchi dei fucili, dai razzi che disegnano verdi ghirigori nel cielo notturno. Ma anche senza queste esibizioni ne avvertiamo l'odore. Le nostre narici hanno sviluppato capacità olfattive degne di un naso profumiere. Neanche le sigarette fumate rigorosamente dentro le trincee e con la parte luminosa all'interno della bocca, per evitare il fuoco dei cecchini, le hanno alterate. E a dire il vero, quelle sigarette ci sono necessarie per allontanare il fetore dei cadaveri di compagni e nemici che forse nessuno mai seppellirà. Sigarette o no, è la paura di farsi rubare la vita a esacerbare sensi e sensazioni. L'inquietudine non risparmia nessuno e si manifesta in modi diversi e all'improvviso con singulti e tremori, crisi di vomito e diarrea, con ribellioni e diserzioni e anche con pazzia e suicidi. Le nostre giovani anime hanno perduto la baldanza dell'età, svelando paure e rivelando una grande riserva di lacrime della quale pensavamo di essere prive. «La staffetta non è ancora arrivata», sussurra in dialetto e fisio. «Gli ordini sono di non causare nessun rumore e noi evitiamo persino di bere, per la paura di sbattere la borraccia dell'acqua contro la gravetta. Anche i topi, con i quali condividiamo la tana, la restano nascosti. Ma il terrore più grande è per assurdo lasciare la sicurezza della trincea per lanciarsi all'attacco verso uno scuro, insidioso e ignoto nemico. E fisio e io siamo compari di San Giovanni dall'età di nove anni, patto sancito attorno al grande falò, che ogni anno, il 23 giugno, per tradizione, illumina il lungomare del nostro piccolo e povero paese di pescatori. Per diventare compari occorrono il fuoco spento dal buio della notte e una stretta di mano a legittimare amicizie fraterne che durano tutta la vita. La nostra divisione, la Sassari, è composta da contadini abituati a usare la falce per rasare un campo di grano, piuttosto che togliere le spolette alle granate, da giovani pastori a vezzi a cacciare cinghiali invece di uomini sconosciuti, da pescatori che conoscono la potenza del mare e il suono del vento. Tutti uomini che ignoravano fino ad oggi la voce della guerra, lenta e immutabile. E vorremmo difenderci con le patadesi perché il fucile in dotazione ci è troppo estraneo. Siamo gente umile, noi sardi, gente fiera e rispettosa, cresciuta con licenza di vivere al sole, scalza, vestita di cielo e terra. E anche se la maggior parte di noi è analfabeta, vive questo assurdo e rigido indottrinamento e questa guerra inutile con muta accettazione, in parte dovuta proprio alla ferrea disciplina militare fino allora sconosciuta e in parte alle profonde radici rurali. Radici rurali. Chissà se mi ha dimenticato il maestro Mura. Io non ho dimenticato le sue sberle educative o i suoi insegnamenti. Dal latino rus, che significa campagna, rurale, è la parola che meglio ci caratterizza. Parola dignitosa dall'impronta antica che scaturisce forse dall'arvum latino, ossia campo arativo. Tutto ciò a dimostrare quanto sia remoto il legame della razza umana alla terra. Siamo zolle profumate e feconde, non terra sterile, maestro Mura, non fango ammorbato di terrore, di sangue e di polvere da sparo. Questo è il nostro schieramento, formato da giovani senza nessuna preparazione militare, piccoli uomini, che quando il fuoco nemico diventa violento, con la speranza di evitare le baionette, vivono o muoiono al grido di Forza Paris, è il motto della Sassari. Forza Paris. Forza insieme, maestro Mura. Chissà se lei sapeva anche questo. Espressione fedele e forte come il nostro senso di gruppo, parole che vivranno negli anni, quando tutto il resto sarà trascorso e andato. Trascorso e andato come Efisio, ucciso da un colpo secco di fucile appena uscito dalla trincea, sporco di fango, di speranza e di paura. Ho chiuso i suoi occhi sbarrati e lucidi dall'ultima lacrima. Ho raccolto dalla sua bocca un unico fiotto di sangue mescolato alla parola «mamma». Spezzato sospiro e rifugio di tutti gli uomini. Associo quell'unico sospiro a un'immagine senza neppure sapere se a lui in quel momento è appartenuta. A me sì. È quella della chiesa di Nostra Signora di Monaria, invocata da sopra il piroscafo che si staccava dalla banchina di Cagliari, il maledetto giorno in cui qualcuno ha deciso di calzare i nostri piedi. Suo padre, nel 1930, dopo essere stato obbligato a ottire un litro di olio di ricino. Fu ammazzato a manganellate da un tribunale speciale fascista. Antioco ordinò un altro caffè. Aveva bisogno dell'alcaloide naturale della caffeina per concludere la riesumazione di quella parte dolorosa del suo passato. L'aveva volontariamente riposta, quella memoria di rimpianto e di rabbia, sperando che la polvere la cementasse. Il cameriere servì il caffè soffermando lo sguardo sulla figura di quell'uomo che gli pareva strano per quel quotidiano saluto al giorno. È magnetico per via dei suoi occhi grigi ai quali le rughe e i capelli bianchi davano una grande profondità. Pozzi magici in cui affondare lo sguardo. Gli sarebbe piaciuto avere un nonno così, i suoi erano morti in guerra. Anziano, ma con quella sicurezza nella voce e nei movimenti. Sarebbe stato il punto fermo della vita, quello che gli era sempre mancato. Antioco e ignaro dei pensieri che suscitavano il ragazzo, nel frattempo si rimproverava di quelle foto ingiallite che aveva volutamente accumulato nella memoria e di quelle sue sciocche convenzioni da vecchio presuntuoso. Ingenui ragazzi che imparano la guerra dai libri di storia. È un mondo senza munizioni quello che abbiamo costruito ai nostri nipoti. Ma che sgomento scoprire che non era quella la realtà. Che sgomento spingere indietro quelle immagini ingiallite, sfocate e maledette per far spazio ai lucidi colori di nuova carta fotografica, di nuove guerre da ricordare, di nuovi soldati e di giovani vite rubate, con la conoscenza drammatica e indifferente dell'inutilità della guerra. Ebbene, sì, Antioco doveva ammetterlo. Ben poco ma era cambiato, in fondo. Il verde-azzurro del mare era di una bellezza amara in quel momento. O forse da maro c'era solo lo rispolverare datati souvenir della vita. Che anche a sfiorarli, appena, rinnovavano oppressioni vecchie e nuove. I ricordi ebbero ancora la meglio su di lui. Sono stanco come tutti i miei compagni, molti dei quali sono malati. La tubercolosi e la dissenteria sono le malattie più temute. La stanchezza non appartiene solo al fisico, purtroppo. Tuttavia, le voci di un possibile armistizio placano i dolori e ognuno di e scavando nell'anima. Recupera un poco di quell'entusiasmo svilito da questa guerra illogica. Di quante date impressi a fuoco siamo composti noi uomini. L'8 settembre 1943 ci ritroviamo a Roma, accorpati alle divisioni dei granatieri di Sardegna e Ariete, con il compito di difendere la capitale dai tedeschi. La mattina del 9, invece, le avanguardie tedesche attaccano reparti militari e civili che si rivelano totalmente disorganizzati. Noi privi di comandi e disorientati combattiamo al fianco di barbieri, operai e persino donne, in una Roma invasa da nemici pronti a neutralizzarci senza sforzo alcuno e a lasciare sui sampietrini più di mille cadaveri tra militari e civili. Inciampando tra i corpi senza vita e schivando proiettili e nemici, io e il mio comandante ci lasciamo condurre da improbabili guide. Due bambini con pochi brandelli di vestiti addosso e Gian Gavino, nativo di Bitti ed esperto conoscitore di Pittadesi, che ci aiuteranno a mettere al sicuro la bandiera di guerra, in un monastero. Scrollato dalla voce quasi imperiosa del cameriere si sentì richiamare la realtà. Signor Antioco, le sta squilando il telefonino, non risponde. Senza pensarci su troppo e ancora con la mente assorbita dal passato, un Antioco confuso ringraziò il cameriere e rispose al telefono, abbeverandosi di un «ciao nonno, buon compleanno» che arrivava direttamente dall'Afghanistan. 1943-2008. Che strana cosa il tempo, quando gioca a muovere i fili degli uomini lasciandoli ripetere errori e scelte all'infinito. «Antioco, come stai, figliolo?» Come non amare il sangue del proprio sangue, il piccolo uomo visto nascere e al quale, forse per sua stessa sfortuna, è stato destinato il proprio nome. Con voce raspata dalla distanza, suo nipote Antioco, primo caporal maggiore della brigata Sassari, mi raccomanda di non preoccuparsi per le notizie che avrebbero riportato i telegiornali. Lui e i suoi compagni stavano tutti bene. «Non è successo niente di grave», sottolinea con tono rassicurante. «Siamo tutti al campo in Herat. Sani e salvi, nonno!» Non fiatò neppure il vecchio Antioco. La voce avrebbe tradito troppe emozioni. «1943-2008». E cade la linea. «Certo, mio caro figliolo», gli rispose col pensiero. «Abbi cura della tua vita». «Certo, mio caro figliolo», gli rispose col pensiero con tono rassicurante. «Certo,